nuovo appuntamento con 30 minuti al massimo anche ad agosto siamo qui perché ad agosto si continua a lavorare come prima anzi forse più di prima lo dimostra il fatto che è ospite oggi nei nostri studi e sono molto felice che sia venuta a trovarci la ministra degli interni luciana lamorgese buongiorno ministro grazie direttore grazie a lei qui a torino e non per caso ne parleremo immediatamente perché di temi da affrontare ce ne sono molti molti riguardano l'ordine pubblico riguardano naturalmente la campagna vaccinale riguardano il tema delle migrazioni insomma veramente cose importanti ma come sempre ministra prima di cominciare la nostra chiacchierata ci guardiamo come sempre la scheda d'autore di andrea malaguti su luciana lamorgese eccola qua figlia di un ex prefetto prefetto a sua volta due figli coniugata con un infettivologo dettaglio significativo in questi mesi di pandemia una vita passata a servire il viminale luciana lamorgese potentina ministro dell'interno dal 5 settembre del 2019 terza donna a ricevere questo incarico nella storia della repubblica guida uno dei due di castelli assieme a quello del lavoro in grado di far saltare per aria il governo dei migliori che dopo un'estate passata ad applaudire uno strani dei dell'olimpo e del pallone torna prepotentemente sotto i riflettori schiacciato da tre problemi la sicurezza pubblica con le velenose proteste no vax no green pass e no tav la sicurezza sul e del lavoro e nuovamente gli sbarchi perché se gli ex stranieri che ci aiutano a vincere medaglie ci riempiono il cuore quelli che sognano di rifarsi una vita da noi continuano a metterci paura basti andarsi a rileggere le dichiarazioni del sottosegretario all'interno nicola molteni suppostamente tenuto a un vincolo di lealtà col ministro sostanzialmente voce tonante della lega più estremista per capire che aria tira e soprattutto che aria tirerà i numeri degli sbarchi sono gravi dice molteni che per quanto smentito dai dati ufficiali del suo ministero e dell'ispi torna a parlare di invasione dal nord africa molteni la spara grossa ma il problema comunque esiste le turbolenze libiche e tunisine lasciano presagire scenari complessi soprattutto se l'europa continuerà a fingere di volerci dare una mano per poi girarle a testa dall'altra parte i molti viaggi delle nostre diplomazie tra tunisi e bruxelles sono lì a dimostrarlo mentre la pressione sale e un sempre più irrequieto salvini chiacciato da sondaggi che danno la meloni in tumultuosa ascesa attacca frontalmente luciana lamorgese al viminale il ministro non c'è che cosa gli risponde ministro rieccoci qui allora come ha visto il nostro andrea malaguti a posto già le questioni fondamentali poi parleremo anche di salvini però io seguirei proprio quest'ordine ministra e cioè appunto la sicurezza pubblica la sicurezza del lavoro e poi il tema dei migranti e qui a torino perché c'è un'emergenza torino comitato ordine sicurezza riunito cosa sta succedendo no oggi siamo venuti a torino perché abbiamo fatto un comitato provinciale abbiamo fatto un punto di situazione su quelle che sono le manifestazioni che si svolgono nella nella zona il cantiere tav e abbiamo avuto anche dei poliziotti feriti e ho sentito davvero il dovere di ringraziare le forze di polizia per l'impegno che stanno mettendo in essere e come un impegno che hanno avuto sempre in questo periodo di terribile che abbiamo vissuto quindi forze di polizia nel cantiere tav ma forze di polizia sulla strada vicino ai cittadini per far capire che lo stato c'è per lo strato c'è ecco quanto vi preoccupano però queste recrudescenze della protesta dei notav perché ormai è da giorni e giorni che vanno avanti lei si ricorderà direttore anche meglio di me che questa è un'opera che sta andando avanti da anni e abbiamo avuto manifestazioni sempre con una recrudescenza in questo periodo proprio in un periodo in cui è stato aperto un altro cantiere a san didero e man mano estenderà anche quell'area quindi certamente è una preoccupazione ma devo dire che l'importante è avere la fermezza la determinazione ma anche quella moderazione nell'approccio con grande senso di responsabilità cosa che le forze di polizia hanno sempre dimostrato in questo periodo. Con quei lavori non si fermano ovviamente. Sicurezza pubblica dicevamo e passiamo al tema della campagna vaccinale e le polemiche gli scontri anche le manifestazioni di piazza sul Green Pass. Ne abbiamo vista una di recente proprio nei giorni scorsi qui davanti al nostro giornale ma in generale le piazze d'Italia si stanno più o meno riempiendo ogni giorno di manifestazioni di protesta contro i vaccini contro il Green Pass. Questo quanto vi preoccupa perché lì si sommano poi aspetti diversi. C'è un ceto medio che ha paura ci sono componenti diciamo di destra più estrema, ci c'è una protesta giovanile un po' violenta insomma è un crogiolo di disagi che messi insieme possono creare qualche preoccupazione. Quanta preoccupazione? Allora noi abbiamo avuto in questo periodo di pandemia manifestazioni tutti i giorni anche di una certa violenza anche a Torino ricorderà come in altre città. Adesso siamo andati avanti con il programma delle vaccinazioni quindi secondo me in questo momento è da avere una certezza che le cose stanno andando meglio le vaccinazioni stanno andando avanti. Si tratta di comprendere che vaccinarsi è utile non solo per noi stessi ma anche per gli altri. E allora le manifestazioni di questo periodo per il Green Pass perché è stato richiesta la presentazione del documento di attestazione della vaccinazione fatta. Quello è un problema che i ristoratori stanno ponendo ma noi abbiamo detto che i ristoratori è come andare a cinema. ma se io presento il mio titolo che mi consente di andare a cinema la stessa cosa è andare con il Green Pass in un ristorante. Certo il ristoratore non deve chiedere il documento di identità. Cioè deve chiedere il Green Pass ma non la patente o la carta. È ovvio che noi daremo un supporto laddove è necessario come forze di polizia che hanno anche compiti istituzionali differenti ovviamente che quello del controllo del territorio. Quindi noi faremo tramite la polizia amministrativa dei controlli a campione a supporto di quello che faranno i vari esercenti commerciali. Ma tutto questo sarà chiarito anche in maniera normativa diciamo così farete una circolare? Faremo una circolare come Viminale e spiegheremo che gli esercizi pubblici non sono tenuti. Esattamente non sono tenuti perché ho visto che c'è stato un po' di confusione su questo anche in alcune interviste rese dalle televisioni e rese proprio dalle esercenti ma nessuno ha chiesto loro di chiedere il documento di identità. Quindi si tratta di... Quindi i ristoratori non devono fare i poliziotti. Ma assolutamente non è compito loro. Però al tempo stesso mi par di capire voi non seminerete di forza pubblica gli esercizi come bar, i ristoranti. Ma io quello che dico le forze di polizia hanno il compito anche di controllo del territorio per la criminalità, quindi per evitare situazioni che poi danno adito a problemi di ordine pubblico. Quindi la polizia amministrativa potrà dare un supporto a queste attività ma non è che possiamo distogliere le forze di polizia per fare i controlli dentro il ristorante. Non uno stato di polizia in questo caso. A proposito del Green Pass, Ministra Lamorgese, e noi lo abbiamo anche accolto sul nostro giornale, c'è un approfondito dibattito sulla natura di queste misure, che sembrerebbero configurare quasi insieme allo stato d'emergenza anche uno stato d'eccezione che mette in qualche modo in discussione anche i principi della nostra democrazia. Lo hanno scritto Massimo Cacciari, un grande filosofo come Agamben. Lei la vede la dittatura sanitaria come è stata definita in questo caso? No, io non la vedo così perché secondo me non bisogna esagerare ed esasperare delle situazioni difficili che abbiamo, ma certamente si tratta di salvaguardare noi stessi, quindi non è che si chiede di fare chissà che, si chiede di attestare con un documento che ti consente poi di entrare nei locali, ma perché? Perché serve per la tutela della salute pubblica che secondo me è un bene primario e quindi vediamola in questi termini, d'altra parte abbiamo visto che in questi giorni si parla di varianti e quindi dobbiamo stare ancora più, diciamo, dobbiamo tutelare anche chi sta vicino a noi. Quindi lei non vede profilarsi una minaccia per la nostra democrazia? La democrazia non è in pericolo. No, 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 perché noi sono principi di carattere costituzionale, la salute pubblica io la vedo così e quindi noi su quel percorso ci siamo avviati. Nonostante questo però, ancora due passaggi su questa materia, le manifestazioni continuano. Quanto vi preoccupano le infiltrazioni e le strumentalizzazioni politiche? Cioè lei ha un po' l'impressione, io sì personalmente, ma voglio sentire la sua opinione, che ci sia anche una componente dei partiti e della politica che strizza un po' l'occhio a queste manifestazioni anti-vaccini e anti-green pass e in generale contro tutti gli obblighi che riguardano il sistema sanitario in questo momento. Io penso che non dobbiamo sempre far vedere che c'è contrapposizione su tutto. Certamente qualcuno, cioè non tutti ragioniamo allo stesso modo, però il fatto che le vaccinazioni, il numero delle vaccinazioni siano tanto cresciute vuol dire che man mano ci si rende conto che è importante seguire un po' le regole che il governo ti indica. Quindi per alcune attività è necessario che ci sia la vaccinazione, come per i medici, come per gli insegnanti. Perché? Perché dobbiamo garantire anche quello che è successo l'anno scorso, che i ragazzi non possono andare a scuola e lo facciano da remoto, perché andare a scuola in presenza è assolutamente una priorità, perché vuol dire garantire la tutela, veramente tutelare psicologicamente i nostri ragazzi, al di là di quello che è l'insegnamento. Quindi l'obbligo per gli insegnanti sarebbe ovvio? Secondo me io la vedo come un'ulteriore tutela per i ragazzi che vanno a scuola e che devono andare a scuola quest'anno, perché dobbiamo tutelare la loro psicologia, perché i rapporti sociali, i rapporti umani tante volte sono anche più importanti dalla lezione che si può anche, diciamo, prendere da remoto. Ma riprenderà, secondo lei, in sicurezza la scuola a settembre? Io spero di sì. Senza dad ancora? Io spero di sì. Abbiamo avuto tempo stavolta per prepararci. Stiamo lavorando anche con i tavoli dei prefetti per quanto riguarda i trasporti, quindi il ministro Bianchi sta seguendo con attenzione tutta la... Lei è fiduciosa? Io sono fiduciosa. Dobbiamo essere fiduciosi perché io vedo che la situazione, rispetto se ritorno con la memoria un anno e mezzo fa, vedo che tanta strada abbiamo fatto e vorrei anche dire una cosa, che tante cose sono state fatte. Può darsi qualcuna sbagliata, però io sfido chiunque ad affrontare una situazione che nessuno si è mai trovato ad affrontare e che abbiamo cercato di dare il meglio e veramente tutto l'impegno necessario. Poi le cose si possono sempre modificare. Certo, corso d'opera si aggiustano. Sulle infiltrazioni le chiedevo ancora questo, Forza Nuova, Casa Pound, l'estrema destra che potrebbe approfittare... Non solo l'estrema destra, gli antagonisti, quindi si può approfittare. Devo dire che in queste ultime manifestazioni non abbiamo visto, non abbiamo segnali evidenti di infiltrazioni. Sì, finora clamorose violenze non ce ne sono state. Clamorose violenze non ce ne sono state. Diciamo che ad oggi, mentre quando ci sono state le manifestazioni nella prima parte dell'anno scorso, allora sì. Allora c'erano... Lei che indicazioni ha dato, Ministra? Cioè rispetto alle manifestazioni? Quelle autorizzate? Sì, perché ormai ce ne sono di spontanee quasi ogni giorno. Allora, ce ne sono tante, ma anche quelle non autorizzate su cui dobbiamo essere rigidi, però dobbiamo sempre tener conto che la piazza va comunque governata e quindi se anche tu ti trovi davanti a una manifestazione non autorizzata, non è che puoi fare la carica dei manifestanti, perché tante volte ci sono anche persone che non c'entrano niente. Quindi bisogna avere sempre quella dose di equilibrio e di responsabilità nell'affrontare situazioni difficili, ma le forze di polizia in quello sono, diciamo, le migliori che in Europa sicuramente. Da una protesta all'altra, oppure possiamo anche tenerle assieme, il lavoro è un altro fronte obiettivamente caldo, a parte il fatto che anche lì c'è un tema, cioè green pass nei luoghi di lavoro, sì, no. Landini in un'intervista a Repubblica dice che non si possono imporre obblighi ai lavoratori in azienda. Lei condivide questa impostazione? Io penso che invece, per le ragioni che dicevamo prima, obblighi se ce ne sono fuori dalle aziende ce ne possono essere anche medie. Secondo me dovrebbe essere il senso di responsabilità di ognuno di noi. Guardi, io quando è uscito il mio turno, immediatamente ho fatto la mia vaccinazione, ma non vedevo l'ora di farla, perché sentivo che era una forma anche di libertà per me e per gli altri che erano a fianco a me. Quindi io mi auguro che anche gli altri reagiscano in questo modo. Ma senza obblighi però, perché lì il tema è mettere l'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, sì. L'obbligo poi adesso il governo valuterà nell'interezza, insieme anche con le organizzazioni sindacali. L'altro tema, dicevo, sul lavoro i licenziamenti. C'era grande preoccupazione, c'è credo tuttora grande preoccupazione su tutte le crisi industriali, no? Da Embraco, Whirlpool, ne abbiamo viste purtroppo tante in questi giorni. Si era detto con lo sblocco dei licenziamenti il rischio è quello di un autunno caldo di una bomba sociale che potrebbe esplodere. Lei lo vede ancora questo pericolo oppure le sembra un po' ridimensionato, visto che anche l'economia si sta riprendendo? Mi sembra un po' ridimensionato, effettivamente, perché il ministro Orlando sta mettendo in atto tutte le misure necessarie per evitare scontri sociali di questo genere. E poi effettivamente l'economia sta andando bene, questo dobbiamo pensare che anche il PIL è in risalita, quindi si prevede addirittura una crescita che potrebbe essere anche del 5%, quindi sono tutti segnali positivi per il nostro Paese che dovrebbero disinnescare bombe sociali di cui parlava lei prima, quindi affrontiamolo con fiducia. Sì, su questo, anche se non è strettamente la sua materia, però l'altro dramma che stiamo vivendo è quella dei morti sul lavoro, che è una tragedia infinita purtroppo, gli ultimi due casi, Luana e Laila, inghiottiti da un macchinario. Ecco, su quello il governo sta facendo abbastanza. Guardi, proprio domenica era l'anniversario delle morti in Belgio di Marsinelle. Allora pensare che morirono 131, mi pare, italiani su 262 persone, pensare che a distanza di tanti anni ancora ci sono morti sul lavoro è davvero pesante anche come Paese, voglio dire che non è stato fatto abbastanza e sempre di più il problema va affrontato perché queste morti non accadano più. Allora, veniamo al capitolo più spinoso che è quello dei migranti. Abbiamo sentito dalla scheda di Andrea Malaguti le parole e le critiche pronunciate dal suo sottosegretario, Molteni, insomma, lavora con lei. Immagino che la convivenza non sia sempre così serena. Salvini non perde occasione per criticare, attaccare, al Viminale non c'è il ministro. Mi sono appuntato una delle ultime frasi che ha detto, ha detto ho scritto a Draghi, 2 agosto era, se la Lamorgese non sa fare il suo lavoro ne tragga le conseguenze, però entro agosto questo problema va risolto. Come si lavora con un partner di maggioranza così? Allora, il problema dell'immigrazione è un problema complesso che va avanti da anni e che richiede interventi a livello europeo innanzitutto e poi occorre anche molta determinazione nell'affrontare soprattutto senso di responsabilità nell'affrontare la situazione. Certamente va tutto contestualizzato perché certamente i numeri sono aumentati in quest'anno, però... C'è un'invasione? Ecco, partiamo dai numeri perché è su quello che penso si possa capire l'entità del problema. Io non parlerei di invasione, direi che i numeri certamente parlano chiaro perché siamo a più di 30 mila arrivi ad agosto. Tradizionalmente luglio-agosto sono stati sempre mesi in cui, visto il mare calmo di solito, sono stati sempre flussi maggiori che negli altri mesi dell'anno. A ciò dobbiamo aggiungere, perché tutto va contestualizzato, è facile parlare, ma poi vanno portate le cose alla realtà, che siamo in una grave crisi pandemica, anche dei paesi da cui provengono... Certo, questo ha complicato ancora di più le cose. Questo certamente è complicato perché noi consideriamo in Tunisia, sappiamo che non c'è più il governo, sappiamo che non c'è più il Parlamento e quindi ancora non è stato nominato il nuovo capo del governo che sarà incaricato anche di seguire, anzi per un mese diciamo un po' sospesa in quel paese la democrazia e quindi certamente per arrivare a questa situazione è una situazione che va avanti da qualche mese. Teniamo conto che la pandemia ha fatto sì che chiudessero alberghi, ristoranti, che l'economia di qual paese è completamente a terra, si rischia di non pagare neanche più gli stipendi nello Stato, quindi contestualizziamo. Libia, la Libia... Lei è stata in Libia, no? Io sono stata anche in Libia, sappiamo anche la situazione della Libia qual è, perché là dovranno esserci le elezioni a fine dicembre, non si sa se si riusciranno a fare. Teniamo conto che noi come Italia abbiamo dato, abbiamo fatto anche degli incontri proprio a Palazzo Chigi, al Ministero degli Esteri con tutti i ministri libici perché loro hanno delle richieste specifiche che riguardano quel paese la costruzione della famosa autostrada, di cui si parlava di tanti impegni presi e su questo anche il nostro Presidente Draghi, quando è andato in Europa, ha chiesto un impegno per i finanziamenti per la Libia e per la Tunisia, per i paesi terzi, proprio perché per combattere l'immigrazione, non potendo mettere diciamo in mare, perché parliamo di arrivi via mare ed è ben diverso dagli arrivi via terra dove volendo si possono mettere in Italia, come abbiamo fatto tra l'altro anche sulla rotta balcanica, ma in mare Ecco lì c'è Giorgia Meloni che continua a chiedere il blocco navale, blocchi navali, blocchi navali Il blocco navale bisogna dire che ovviamente è un atto di guerra, ma lo sa anche l'onorevole Meloni perché lei sa che si può fare un'intesa con quei paesi, soltanto previ-intesa, cosa che in questo momento ovviamente con la Libia Non c'è neanche l'interlocutore Non ci pensiamo neanche, invece con la Tunisia noi abbiamo un accordo preso con il governo che appena è andato via di una linea dedicata, nel senso che da rappresentare appena partivano, di andare la partenza di imbarcazione anche perché poi vengono in Italia e poi vengono rimpatriati non avendo titolo, essendo la Tunisia ancora un paese sicuro Ecco però da questo punto di vista, questi viaggi, lei è stata in Tunisia, è stata in Libia Alla fine che risultato pratico producono? Perché uno dei suoi predecessori, molto discusso dopo, è stato Marco Minniti che ha preso alcuni accordi con la Libia, effettivamente i flussi si sono ridotti però poi abbiamo scoperto gli orrori dei campi, chiamiamoli così, di concentramento che ci sono in quel paese Abbiamo scoperto e abbiamo anche finanziato la Guardia Costiera Libica che sperona le navi dei migranti, i barconi dei migranti, è una linea questa? Io, quello che voglio dire, il ministro dell'epoca, quindi Marco Minniti molto faceva anche riferimento a quello che sono i corridoi umanitari E allora questa linea è quella che stiamo seguendo anche noi Tant'è vero che adesso abbiamo organizzato dei corridoi anche dalla Libia per 500 persone, di persone vulnerabili, di intesa anche con la comunità di Sant'Egidio con la Chiesa Valdese, quindi stiamo facendo tutta un'attività perché l'immigrazione da irregolare diventi un'immigrazione regolare E così per esempio col decreto flussi Io ho tanto spinto perché il decreto flussi che noi facciamo ogni anno la Presidenza del Consiglio, anziché di 30.000 all'anno che con un click in mezza giornata era già completato invece sia un numero molto più ampio in modo da poter poi avere un sistema più strutturato anche di immigrazione Quindi la via resta quella, flussi regolari? Sì, sì, sì Corridoi umanitari? Corridoi umanitari Però ancora non ci si riesce Noi i corridoi li abbiamo Sei corridoi li abbiamo fatti? No, 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 molti di più Molti di più, però teniamo anche conto di una cosa Noi non consideriamo i dati del 2020 perché il 2020 è rimasta un po' bloccata tutta l'attività a causa della pandemia quindi però noi abbiamo fatto tanti corridoi umanitari ripeto, adesso abbiamo firmato un accordo per 500 anche dalla Libia Quindi diciamo che a regime lei immagina una situazione Va a capovolta la situazione Con decreto i flussi, anche quelli regolati, anno per anno Noi dobbiamo aiutare quei paesi a uscire da uno stato di difficoltà economica, finanziaria, sociale Quindi è qua l'Europa c'entra Poi dobbiamo cercare di regolarizzare cioè dare un sistema all'Italia, un sistema di flussi regolari con corridoi umanitari o rimpatri volontari assistiti Questa è la strada maestra che bisogna seguir Ecco, quando lei parla dell'Europa ovviamente fa riferimento anche a cosa che ha detto più volte anche il Presidente Draghi a una rivisitazione degli accordi di Dublino sui diritti d'asilo finora concessi dai paesi di primo ingresso diciamo così Anche lì però mi pare che l'Europa non faccia passi avanti L'Europa è un po' in difficoltà questo glielo posso assicurare perché lo stesso patto asilo e immigrazione nonostante il semestre europeo tedesco non è andato avanti il semestre europeo adesso sloveno è difficile che trovi una conclusione perché quel patto deve avere il via libera da parte di tutti i 27 paesi e non tutti hanno la sensibilità dei paesi del Mediterraneo che invece la vediamo diversamente su questo quindi ci sarà da lavorare ancora perché poi si arrivi a un compromesso che però non penalizzi i nostri paesi Così Salvini continuerà a dire però che non si fa niente Che le devo dire Salvini Senatore Salvini evidentemente non ha ben chiara di quelle che sono le difficoltà che noi stiamo vivendo quotidianamente Eppure ha fatto il Ministro al Viminale prima di lei però Io adesso sono circa due anni che sono lì quindi forse un poco un po' di esperienza se l'è fatta Guardi io ho l'esperienza di aver lavorato Una quarantina d'anni Una quarantina d'anni e poi adesso l'impegno è tanto anzi dico al Senatore Salvini che se ci sono delle iniziative che noi non abbiamo adottato e che lui ci può suggerire per bloccare gli arrivi via mare io volentieri davvero volentieri Li raccoglio Li raccoglio Ma non ci deve essere un incontro tra voi a un certo punto? E ancora non c'è stato però Perché lei non vuole o perché non vuole lui? No 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 O perché non vuole Draghi? No 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 Quindi lei è disposto Io sono sempre disposto ma io sono sempre disposto Si mette a tavola anche con Salvini Ma assolutamente sì Nel frattempo Ministro si è riaperta però anche la rotta balcanica facciamo un cenno prima noi abbiamo raccontato sul nostro giornale tre giorni fa questa situazione alle porte di Trieste piuttosto agghiacciante perché arrivano dall'este e nel bosco prima di arrivare a Trieste si svestono di tutte le poche cose che hanno avevano portato con sé si mettono dei panni diciamo un pochino più e cercano di entrare in città e rendersi presentabili è un altro fronte che preoccupa anche quello quello è un altro fronte che non devo dire che lì noi abbiamo adesso iniziato i pattugliamenti congiunti anche con la Slovenia perché sono andata anche in Slovenia un mese fa prima che iniziasse il semestre a guida appunto loro e abbiamo a seguito di quello abbiamo iniziato i pattugliamenti congiunti certamente i numeri sono più o meno quelli dell'anno scorso quindi non c'è una grave diciamo una situazione più grave del solito tenga conto che là ci sono anche i militari ne abbiamo messo e poi io vorrei ricordare che noi abbiamo avuto una sentenza del Tribunale di Roma dove ci diceva che ha condannato il nostro paese il Viminale in particolare perché noi avevamo riammesso un cittadino che veniva dalla Croazia dalla Slovenia cosa che il cittadino non era mai arrivato in Italia ma poi io e questo è un problema che ho posto anche in Europa se io anche riammetto un cittadino in Slovenia e la Slovenia fa parte anzi ora abbiamo la guida in Slovenia e poi dalla Slovenia va in Croazia e siede anche con il tavolo e poi si arriva in un paese non è che l'Italia deve essere il paese che deve garantire tutta l'Europa anche della rotta balcanica su questo bisogna fare un ragionamento e questo io l'ho detto anche alla commissaria Johansson perché non mi sembra corretto anche perché se ci sono dei problemi su altri paesi Slovenia e Croazia allora ci dicessero che non fanno parte dell'Europa invece fanno parte a pieno titolo ci lasciano sempre un po' soli non vedo perché io non possa riammettere Slovenia perché poi da lì non sono garantiti i diritti non è pensabile senta collegata a questo andiamo rapidamente alla chiusura stiamo festeggiando tutte le nostre prime pagine gli straordinari successi degli azzurri alle Olimpiadi il presidente Iconi Malagò giustamente ha detto questa è la vittoria dell'Italia multietnica multiculturale non sarà il momento di riprendere in mano il famoso tema dello Iussoli in maniera però un po' più determinata e non solo a chiacchiere lei cosa pensa di questo? Mi consenta di ringraziare innanzitutto tutti gli atleti che hanno reso onore all'Italia quelli di tanti poliziotti quindi che fanno parte certo ecco della nostra grande squadra a partire da Jacobs tra l'altro il nuovo primatista e quindi davvero hanno reso onore all'Italia e li ringrazio davvero moltissimo per quanto riguarda la domanda specifica è una domanda che certamente oggi quando vediamo questi ragazzi che sono hanno portato il nome dell'Italia in giro e hanno dato onore al nostro paese in effetti devo dire quello che il presidente Malagò ha detto di impeto è un problema che si pone perché non dobbiamo ricordarci soltanto quando vincono evidentemente perché comunque sono ragazzi che sono cresciuti poi in Italia questo poi la politica dovrà fare diciamo i suoi riscontri e spero che si arrivi a una sintesi delle varie posizioni politiche si aggiungo anche che non dobbiamo limitarci soltanto ad affrontare il tema solo per quello che concerne gli sportivi che vincono le medaglie poi forse è un tema che riguarda tutti i figli di seconda generazione nati in Italia che devono aspettare 18 anni per diventare cittadino se ne parla da tanto e quindi non so se poi si riuscirà a trovare una sintesi però lei sarebbe favorevole evidentemente si riuscirà a trovare una sintesi su questi io dico che la cosa importante è che questi ragazzi le seconde generazioni noi dobbiamo pensare anche all'inclusione sociale perché sono ragazzi che si devono sentire parte integrante di una società su questo non c'è io una volta fece un tavolo con i ragazzi di seconda terza generazione e loro dissero noi non vogliamo sentir parlare di integrazione ma di interazione perché noi ci sentiamo italiani questi ragazzi in effetti dobbiamo aiutarli a farli sentire parte integrante di una società assolutamente sì proprio a volo d'uccello le ultime due cose poi la lasciamo il 15 c'è il solito appuntamento canonico mi può dire la situazione a livello di ordine pubblico sui due fronti mafia traffico di droghe criminalità organizzata com'è la situazione in questo momento per il nostro paese vogliamo parlare proprio di Torino visto che oggi abbiamo fatto un riscontro proprio su questi elementi c'è abbastanza una perversività della criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali anche nella città di Torino ma in generale però in tutta Italia consideriamo anche in tutta Italia lei pensi che quando io ero a Milano io ho chiuso una farmacia per mafia proprio per ed è stato forse l'unico caso in Italia di un provvedimento di questo tipo perché anche lì e quindi come il resto del territorio le interdittive stanno crescendo da parte dei prefetti quindi vuol dire che c'è un'attività di prevenzione notevole consideriamo che per esempio a Torino soltanto in questi primi sei mesi sono già 16 interdittive mentre l'anno scorso ne erano state 19 in tutto l'anno quindi voglio dire l'attività dei prefetti è molto intensa in questo io su questo ho dato una specifica direttiva l'anno scorso proprio in relazione alla pandemia perché si stesse molto si lavorasse molto su questi aspetti anche per evitare l'infiltrazione nell'economia legale delle delle possiamo dire che da questo punto di vista ministro Lamorgese il covid è stato un ulteriore acceleratore del rischio di infiltrazione mafiosa sicuramente sì dobbiamo stare anche molto attenti a quelli che sono i cambi di proprietà perché tante volte la mafia facilmente si adatta alle nuove condizioni e noi dobbiamo essere decisi e determinati nell'affrontare in prevenzione molto bene molto bene ci sarebbero ancora tanti tanti argomenti non mancherà non mancherà occasione sempre se Salvini ce lo permette no scusi se torno ma io la vengo a trovare lo stesso esatto avremo modo di chiacchierare amabilmente anche se le cose dovessero cambiare ma cambieranno secondo lei no il governo va avanti no il governo sta facendo così bene Draghi va al Quirinale ministro Lamorgese questo guardi adesso abbiamo ancora il presidente teniamocelo come premier dice lei e teniamoci Mattarella avendo ancora il presidente Mattarella non mi sembra neanche il caso di parlare del dopo va bene va bene comunque siamo in grado al termine della nostra conversazione di dire che al Viminale la ministra c'è poi ognuno ognuno valuti come crede ma insomma oggi l'abbiamo dimostrato materialmente no davvero grazie ministro Lamorgese per il lavoro che fa e che state facendo buon Ferragosto la rivedremo a Ferragosto con il solito il solito discorso agli italiani grazie di tutto grazie a lei buona estate noi ci rivediamo presto con 30 minuti